42 tonnellate di falso olio extravergine di oliva e 11.000 chili di cozze potenzialmente dannose per la salute. Rischiavano di finire sulle nostre tavole ma sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine in tre distinte operazioni nella provincia di Foggia. A Cerigno le carabinieri hanno sgominato un'associazione a delinquere che produceva falso olio extravergine di oliva. 18 i decreti di perquisizione nei confronti di 7 persone accusate di frode nelle pubbliche forniture militari e adulterazione e associazione a delinquere finalizzata alla sofisticazione di sostanze alimentari destinati alla commercializzazione. L'indagine ha interessato diverse province italiane e aveva già consentito l'individuazione e il sequestro di olio pronto per la distribuzione per un valore totale di quasi un milione di euro. Nel corso delle operazioni sono stati perquisiti diversi box e magazzini in uso agli indagati. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 1.145 contrassegni di stato delle accise doganali, varie etichette e bottiglie in vetro e 174 bottiglie di champagne sulla quali sono in corso approfondimenti investigativi. A Manfredonia invece la Guardia di Finanza durante alcuni controlli a due distinti trasportatori ha sequestrato militi privi di documentazione sulla loro tracciabilità che probabilmente sarebbero stati messi in vendita in nero sul mercato, prodotti potenzialmente non genuini e non sicuri che oltre a rappresentare un rischio per la salute dei consumatori avrebbero danneggiato il mercato sottraendo opportunità alle imprese del settore che lavorano in maniera regolare.